Mister, è una partita, è una sconfitta, eccoci voi al commentare un po' dal suo punto di vista questa sconfitta di Arezzo. Ma è una sconfitta che ci brucia, ci dà fastidio perché abbiamo regalato due gol, potevamo essere più attenti, però poi alla fine credo meritassimo il pareggio perché abbiamo avuto le occasioni per pareggiare, il loro portiere ha dovuto fare penso una parata decisiva e poi credo un salvataggio sulla linea, sulla ribattuta. Questa è stata una delle occasioni che abbiamo avuto nel finale, quindi alla fine ci dispiace perché nonostante non abbia fatto un buon primo tempo, poi io credo che nel secondo tempo avremmo meritato ampiamente il pareggio. Senta, quanto pesa questa sconfitta? Ci sono ancora diverse partite, ma quanto la rammarica effettivamente per il proseguo del campionato? Ma ci dispiace, come tutte le sconfitte, perché non è che ce n'è qualcuna che è meno amara di questa. Ci dispiace, però sappiamo il nostro percorso, che dobbiamo mantenere la categoria, salvarci il prima possibile, sappiamo che ci mancano ancora nove punti e quindi bisogna fare punti dalla prossima partita. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, è chiaro che quando perdi queste partite ti brucia, ti dà fastidio perché poi i ragazzi hanno reagito, hanno fatto partita, hanno trovato un ottimo arezzo di fronte e nonostante ciò abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla.